salve a tutti ragazzi e benvenuti insieme in questo nuovo video di borderland 2 bene andiamo pure avanti vediamo un po' che succede con questa storia intricata qui c'è il catch a ride vediamo un po' se oltre a quello c'è qualcos'altro no c'è solo questo allora dove devo andare esattamente per la quest nel casino quindi se esploro un pochino non succede niente altrimenti ovviamente ho caricato e si è risettato tutto chi è chi è non capisco a sono loro ok non lo vedo l'ho perso di vista deve essere qui quindi andaria qui ecco scusate non lo vedevo proprio tac l'ho preso è perfetto andata adesso possiamo esplorare vediamo un po' si trova qualcosa di utile ragazzi è molto gentilo eccoci qua io provo ma non ci riesco sicuramente andiamo su questo sassino qui su questo sassino niente il sassino non funziona andiamo di qua e di qua si può andare allora vediamo cosa c'è magari troviamo una cresta qualcosa sa mai questa è una zona che sembra pacifica non c'è nessuno ci sono solo bidoni mi sono già perso scusate ecco qua così almeno vedo qualcosa qui dentro aspettate un attimo un secondo uh interessante vediamo se senza prendere la mira è una merda sto fucile veramente per fortuna tra virgolette carica velocemente vediamo se ci riuscivo ok forse è il caso di usare questo vediamo se ci riusciamo tac non l'ho preso perfetto no adesso l'ho preso adesso carichi ah ma questo da vicino è abbastanza utile appena riesco a trovare i fettentoni maledetti tac ok questo è andato madonna esplodono che una meraviglia oh due in un colpo bello vai ok forse è andata andata sicuramente è andata eh fino a piano li facciamo dai insomma sì no l'ho mancato alla grande vai perfetto è andata e dai ce ne è rimasto due ce ne sono rimasti tre quanti cazzo siete ok datemi un segnale un qualcosa top perfetto è andata ma sono tantissimi cazzo l'ho mancato alla grande proprio alla grande grande io sto finendo tutti ovviamente tutti perfetto c'è più nessuno ok devo ritirare un po di roba che è anche ora è il tempo di che sarebbe insomma non lo so allora adesso che abbiamo fatto tutto cambiamo anno perché questa per carità se no mi finisce subito ma vedo l'ora di sbloccare un nuovo nuovo un nuovo oh non lo prende è un pericolo ma questa non l'ho capita ma evidentemente è solo è solo che non aveva letbox posto va bene vediamo un po cosa c'è di buono io spero sempre di trovare un po di niente non ho trovato nulla cos'è questo a parte questo e questo 545 di scudo no non mi interessa e avrei trovato beh della roba l'ho trovata e non possono certo lamentarmi continuo un attimo qua e poi me ne vado via dai se no stiamo troppo guardate quanti finalmente ho trovato tutto quello che volevo trovare a parte il video che purtroppo non l'ho trovato però insomma non neanche vi posso lamentare vi ha fatto una bella strage qui non c'è più niente no ok ah c'è questo ovviamente era una letbox ok vediamo cosa c'è niente una pistola a 106 l'unico posto rimasto mi a parte qui che non mi ricordo se sono passato non c'è niente ok era appunto la casetta in canna d'acqua che non ho capito bene se effettivamente ci fosse qualcosa sì qualcosa c'è qui non si apre strano salve questo interessa molto apriati grazie e vediamo se riesco a prendersi qualcosina preso dai non posso lamentare di qua non si può uscire ovviamente c'era un'altra cosa però abbiamo preso un sacco di belle cose e qui si può andare sul tetto ok dai possiamo andare a farla questa cosa c'è qui vediamo se c'è qualcosa non c'è niente soldi ma quelli insomma non è che ci manchino eh più che altro non so come impiegare questi soldi a parte la slot machine lì che è un po' una pala dopo un po' che per carità ci ha dato delle cose di tutto rispetto insomma non è che mi lamenti però insomma sono più le volte che butto via i soldi che altro allora devo andare di qua andiamo pure sperando che non mi vengano più quelli là e posso usare i miei fucili da cecchino perché insomma incomincia a essere interessante usarlo allora di qua lui dice non è che posso tagliare da qualche altra parte devo esplorare se no perché sento strane cose qui oh salve ti ho preso eh questo non si capisce che cazzo sia effettivamente aia è qualcosa che mi fa tanto malo ah ma sei tu eh andiamo qua allora mi ci vuole quello lì da vicinanza inutile se non riesco a capire dove siete però ok aia si sta fuori aspetta ti do una mano oh sicuramente molto meglio salti fuori salti fuori salti fuori e salta fuori oh sei fatto malo e sei fatto male ancora oh adesso ragioniamo se ne sono altri ovviamente sì ce ne sono altri se no non ha senso oh ma io penso siano proprio tanti perché me ne danno così tanti l'ho mancato alla grande ecco adesso figurati ok vai vai ci hai fatto malo ma perché rimane lì a prenderle vabbè per carità eh sì sì ok ce ne sono altri ovviamente sì ce ne sono tanti altri carichiamo ah sto finendo proiettili ovviamente dove sei eh lì troppo lontano per me però forse col fucile da cecchino qualcosa riesco a fare ok niente fucile da cecchino dove sei finito ok posso andarmene ok per carità eh danno un fumo di esperienza però insomma sì vorrei anche vivere madonna quanta vita mi è rimasta cosa c'è qui vedo delle casse di fornimento o posto nuovo che bella cosa vediamo un po cosa c'è munizioni per carità eh però insomma sì posto nuovo mi aspettavo qualcosa di più interessanto cioè volendo posso andare anche qui eh sì sì posso andarci però mi sto allontanando effettivamente dalla missione dove sono molto dalla missione perché cazzo ma c'è tanto da esplorare in questo posto eh vabbè andiamo verso la missione così non perdiamo altro tempo non è che tempo perso è più carità perché tanto qua prima o poi troviamo delle missioni da fare però insomma meglio andare abbiamo già perso troppo tempo ho preso un sacco di roba però insomma sì allora vediamo se da qui vedo qualcosa vedo un cazzo ovviamente ok traversiamo il fiumiciatolo e andiamo verso l'alto così una volta che siamo in alto più facile scendere in basso che salire in alto dopo se dobbiamo andare da qualche parte rialzata la direzione più o meno è questa un po' di qua ma di qua non posso andare quindi vediamo se riesco a salire abbastanza in alto per poi aggiustarmi senza problemi allora vediamo un po' se riesco a salire anche qua perfetto ottimo ok la direzione è questa adesso devo capire se è a destra o a sinistra e non si capisce ovviamente ovviamente non si capisce lì sono passato perché vedo dalla mondezza e qua qua si può andare dai andiamo di qua mi ha salvato meno male sì alla fine penso sia salve bisogna che metta l'altro lo sai aspettate un attimo ok vai perfetto ce ne sarà anche un altro qua ovviamente no ok non importa andata oh cavoli eh 400 un po' di cose allora scarichiamo e vediamo cosa ci aspetta qui perché non penso ci sia niente di buono oh questo è da cecchino scusate dove cazzo ha mirato proviamo da dietro se oh l'ho ucciso lo stesso vediamo un pochino salve ho fatto il crito eh si lo ho fatto abbastanza io ci provo eh tanto siamo belli carichi ok due colpi se non lo prendo bene mi può stare anche bene certo che se vedessi qualcosa oh salve a ver critico ecco qua perfettico adesso di qua bellissimo critico aia vai morto altri beh io direi che i robot sono proprio facilissimi da fare basta colpirli nel punto giusto e sì insomma bene ok un po' di cartucce del mio oh le ho presi tutte proprio un'esplosione di piacere adesso vediamo se c'è qualcos'altro sì ovvio che c'era qualcos'altro ok eh altro andiamo se non mi salta fuori qualcuno e mi fa cucù dovrebbe essere tutto a posto ah per ti grazie molto gentilo eh ok ah avevo ero proprio oh corto di munizioni stavo per cadere non è una cosa bella oh salve beh loro sono abbastanza io l'ho preso in testa eh sono abbastanza sicuro questo no questo sì però perfetto altri vieni qua vieni qua questo qui l'avevo preso in testa sicuramente ne sono più che sicuro oh carica c'è qualcun altro dunque vediamo la mappa ah qui beh qui è facile oh oh iridio ce n'è un altro là ma non lo vedo vedo solo la minimappa vediamo quanto mi ha dato uno vabbè meglio di un paccio nel palo insomma sì penso che qualsiasi cosa sia meglio di un paccio nel palo non so boh questa vaga impressione ok abbiamo preso anche questo non c'è nient'altro lì c'è la morte beh abbiamo fatto salve abbastanza bene tutto ecco appunto oh salve lei eh no aspettiamo che scenda perché insomma eccola qua l'ho preso proprio nell'occhio ecco qua siamo a postolo anche lei nell'occhio grazie ecco qua due colpi ci vogliono nell'occhio però insomma sì ok ce n'è un altro però continuo a non sapere dove sia più o meno è qua a linea d'aria ma uff abbiamo fatto che questa dai oh salve e questo è un po' più ok io lo prendo nell'occhio ma porca vai oh perché questo è un pochino più duro eh dell'altro non vedo un cazzo ok questo è andato mettiamoci giù magari un pochino più vai nell'occhio 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 perché quest'occhio non sia l'unico punto debole strana impressione ok è andata bene ce l'abbiamo fatta ma perché mi dai dello stronzo insomma sì non è che sia il migliore del mondo però se la pia stronzo insomma ecco qua ok mi è piaciuto tanto ne sono proprio contento eh questa è una moda vabbè oh guarda te munizioni prego ok grazie molto gentilo adesso vediamo cosa mi però io direi che questa granata fa per me 1400 non le uso mai però la volta che le uso vorrei spaccare i culo canarini detta è qui di sopra vero scusate allora io adesso per il momento farei fuori questo magari lo prendo col cazzo sarà l'asse va bene vabbè ci dovremmo arrivare quindi sì insomma va bene ok vediamo cosa c'è qui tante cose buone suppongo vero eh pazienza insomma che devo farci e per me è ancora lui eh chissà dov'è e cosa fa ops salve questi dovevi prenderli qua ok presi perfettico eh non vedo un cazzo mi è esploso il mondo ok è andata ah ma perché c'è qualcuno che spara chi cazzo è non lo vedo ragazzi se lo cieco io mi dispiace per me è qualcuno che si è compenetrato con qualcosa e non riesce più a muoversi così va meglio top oh finalmente l'abbiamo fatto fuori ragazzi cavolo mi stava tormentando ok andiamo pure qua a vedere cosa c'è 88 è un mitra dovrei usarlo ogni tanto adesso quando possiamo slot libero di armi lo uso l'equipaggio così almeno abbiamo le quattro varietà di tipologie di tra le quattro tipologie di munizioni così nel caso assurdo dovesse finire una certo che in borderline 1 c'era la rigenerazione di munizioni che faceva veramente comodo non so se qui ci sia effettivamente sarebbe piaciuto molto non so come talento magari sarebbe ottima la cosa così non dobbiamo preoccuparci insomma sì mi ha preso lo stesso mi sembra ovvio ok apriamo tutto adesso poi ci andiamo a vedere ok adesso vediamo ok mi ha preso tutto di qua e tutto di qua ok avanti avanti popolo insomma sì dovrei andare di qua di qua di qua cosa ci sarà mai cosa ci sarà mai vediamo un po' se mi scopri qualcos'altro non sembrerebbe che mi scoprisse niente di nuovo ok vediamo un po' se mi butto giù che succede e vediamo soprattutto mamma mia ma siamo ancora lontanissimi io che mi ero gasato ho detto dai siamo a due passi questa è la città che dobbiamo andare allora vediamo se c'è un modo più semplice di buttarsi magari qua verso il ponte non mi dispiacerebbe siamo ancora lontani di qua invece perché oh salve magari un frigorifero qui che c'è qualcosa ma sono già venuti perché insomma c'era così poco allora vediamo un po' se qui mi fai andare motivo ci sarà spero che non mi spari sto coso perché se no sono nella cacca allora eh ci provo vai yuhu come cadere e farsi malo oh non mi sono fatto niente che c'è l'anticaduta questo coso perfetto quindi questa è una specie di autostrada che porta non si sa dove comunque non qua oddio potrebbe come perché qua in teoria scendeva giù e prosegue qui forse devo andare di qua effettivamente proviamo rivediamo perché non vorrei far cacate si ok a massimo c'è un punto di scambio ah ma insomma si e poi qui è un posto così dritto che posso andare a fuggire a cecchino senza problemi di sorta qui cosa c'è una stazione una stazione si c'è un catcheride in effetti mi avvicinerei di più andando lì sarebbe il caso voi cosa dite oh qui c'è una scala che porta che porta a questo e io lo userei insomma si c'è tanta roba magari c'è qualcosa un'arma che mi fosse adatta a livello non la sdegnerei anche perché mi è capitato di trovarla solo con la slot machine non è tanto mi aspettavo di trovarle più spesso armi ma buone allora andiamo un po' qui siamo sotto al ponte ok non c'è niente non c'è niente e non c'è niente perfettico no insomma siamo messi bene non ci sono oh salve non ci sono nemici e quindi per adesso va bene anche se è un po' inquietante sapere che ci siano ma sotto allora andiamo di qua e andiamo verso il nostro obiettivo che è qua no è qua scusatemi andiamo pure e qua ok oh salve eh mi devo usare l'altro adesso vai sono l'ho ucciso strano l'ho mancato questi sono duri se gli manchi è un casino ma dove cazzo sta andando ha deciso di farsi una gita ecco adesso è sparito mi sembra ovvio adesso che mi serviva oh salve oh adesso ragioniamo aspettiamo e vai no mi ha attaccato e mi ha spostato vediamo qua chi è chi è siete inquietanti mi ha detto mai nessuno oh ok non l'ho ucciso porca miseria oh salve lei deve morire subito ok e rimane solo questo vai oh che soddisfazione quindi un punto salve è qui vediamo cosa c'è vediamo qualcosa di buono si munizioni grazie molto gentilo devo assolutamente quando vado a sanctuary aumentare questo fucile a po' pazza perché sarebbe inutile eh catcheride non lo so se usare catcheride in una zona da scoprire sia abbastanza consigliabile comunque grazie a questa scorciatoia siamo arrivati sono contento andiamo un po' non lo so mi sembra un po' desolato vabbè in fondo ci si può no lo sapevo io che mi sembrava troppo vuoto come posto ho detto boh mi dava quell'idea però ho detto ma magari mi sbaglio e invece no non mi sbagliavo meno male che non mi sono buttato un pesce fritto se no succedeva una brutta coscia allora devo trovare un metodo di andare di là allora quindi il ponte questa è brutta cosa perché io avrei preferito tanto andare di qua ma è strano che non mi faccia andare forse qua sono zone alcune zone predisposte non avendosi mai giocato a sto gioco sono un pochino interdetto perché non so effettivamente le strade che sono percorribili e quelle che invece si invece no cioè proviamo di qua eh di qua si va però di qua faccio eh si può darsi che effettivamente debba andare di qua eh pensandoci bene proviamo e vediamo che succede carichiamo se non ci carichi oh qui c'è qualcosa una cassa di munizioni vai ok preso perfetto andiamo nella cassa di munizioni che mi interessa dammi di armi scusate dammi qualcosa che può essere utile alla mia causa un'arma c'è 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 che cazzo 785 meno 160 te lo tieni consuma ample non so cosa sia ample comunque non mi interessa oh cavoli però mi da tanto cioè questo qui mi da arriverei a 1400 quindi avrei ah il doppio di lo scudo che ho adesso togliendo 300 di energia quindi arriverei a 1000 di vita però avrei 700 in più non lo so preferisco avere qualcosa che mi da in più tipo questo però no va bene dai pazienza queste sono scelte poi alla fine non è che siano cose obbligatorie va bene mi sono dimenticato dove dovevo andare come al solito mi scordo sempre di qua ok andiamo di qua e vediamo che succede che effettivamente c'è una strada che porta di là può darsi che sia questa qui c'è una panchina che è fermata nell'autobus e oh salve cosa ci sarà mai qui non c'è niente oh una zona nuova beh meglio no ditemi che non dovevo andare sopra se dovevo andare sopra ho fatto una caccata senza fine vero vabbè intanto andiamo non si sa se devo andare sotto o sopra quindi oh salve speriamo che adesso abbiamo un po' più di fortuna un fucile a cecchino però di merda ma livello 18 eppure il mio livello qua più o meno dai 20 quindi sono due livelli sopra al posto cui sono non è chiaro vabbè comunque andiamo e vediamo vediamo la quest scusatemi ma sono curioso la quest è di livello 18 quindi in effetti sono più alto della quest grazie alle missioni secondari che abbiamo fatto che ci hanno aiutato non poco ok di qua no qui c'è ancora quella zona lì porca vacca niente mi tocca per forza prenderla da qua qui c'è ancora quella zona lì non posso poi posso salire non posso quindi mi tocca andare di qua e vabbè non ho altra scelta qui ci potrebbe andare l'autocomunale meglio farlo perché a volte c'è della cosa buona ok niente qui sì soldi che non è che mi servano per carità però un po' di ridio andiamo qua niente se l'ho preso non me ne sono reso conto vabbè andiamo andiamo dove andiamo bella domanda di qua sono venuto ma non si può andare perché lì si va nella zona morta e quindi di qua non posso salire mi tocca andare di qua e fare il giro di là vabbè non è un dramma ovviamente di qua non posso passare mentre fare il giro di là figuriamoci se prendevo la strada giusta era ovvio che prendessi quella sbagliata no insomma sì non sarei io ok meglio caricare ecco qua ci siamo adesso non ci sbagliamo più non vado più qua mi scusiate proprio non avevo idea di là si va là a questo punto vado di qua sperando che sia la strada giusta eh ormai ho girato mezzo pianeta qua io non ho ancora trovato niente ci c'è una zona del catch ride e dovrebbe essere anche la zona di save eh sì dovrebbe essere questa ragazzi ci abbiamo fatto overclock bene un sovraccarico facciamo sto sovraccarico e vediamo cosa succede overlook non overclock ho sbagliato io è un solito figo di merda ora hanno tutti i tremori grazie alle operazioni di estrazione di jack quei poveri bastardi sono troppo malati per uscire di casa ti conviene piazzare il radiofaro laggiù quando la base lunare processerà la richiesta otterrai una stazione di spostamento rapido ok quindi overlook no overclock vabbè ragazzi scusate sono dislessico lo sapete già lo dico in ogni video ma nessuno mi crede e allora in ogni video no però l'ho detto spesso in passato quindi sì insomma ok eh altro ecco qua bene ho preso tutto quasi volevo usare questa di arma vabbè male usata e quindi ci sono ma sono tutti in casa perché sono tutti malati overlook ha di nuovo superato jackdill per il minor numero di violazioni del coprifuoco la settimana prossima il tritacarne sarà usato solo per reati gravi come gettare spazzatura o turpiloquio ah beh tutti loquio ok sto trasmettendo la richiesta di rifornimenti ora dobbiamo solo aspettare qualche minuto e angelo basta così puoi smettere di far finta di aiutare i cattivi ora angelo non c'è molto tempo prima che jack si accorga che non lo sto più aiutando difendi il radio faro e come lo difendo parolacce ora mi deluderai davvero se non riuscirai a occuparti di questi caricatori ok vai spara spara ok questo è andato io se facessi così ok questo è molto meglio anche se il fuoco con il oro fa poco ok aia 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 purtroppo ho dovuto caricare ok preso ok ce l'ho una vai che ce la facciamo vediamo un po' ok perfetto andata vai oh critico da panico vai non ho visto un cazzo calma 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 rilassiamoci ce la possiamo fare oh no buono ok vai oh dove sei l'altro dov'è richiesta stazione spostamento rapido non calibrata ricevuta tempo stimato da 3 a 6 settimane dai 3 a 6 settimane eh si 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 cazzo si ma non vedo un cazzo non vivrà senza riformimenti medici per qualche altro mese devi riparare il radio faro ah ho capito che lo devo riparare ma calma ragazzi calma se non ripari il radio faro la richiesta di riformimenti non viene trasmessa ho capito ripara ripara ok l'ho riparato eh cazzarola cazzarola e cazzarola dove siete sono quelli volanti ok andata altri volanti oh ragazzi mi tocca andare di violenza inalata perché qui se no non ce la facciamo eh mi sembra ovvio dai ok mamma mia quanti cazzo siete eh questo non va bene assolutamente cosa è per forza il cecchinazzo dov'è? ho questo o quello insomma ma vedo un cazzo vai ok andata ricarichiamo ragazzi è piuttosto arduo ok andata è fantastico cazzarola piuttosto non vedo un cazzo vediamo un po' vai ok questo è andato questo è andato cazzo sta cominciando a essere piuttosto duro qua ok ok andiamo qua di questo dai su ok eh no bisogna che usarsi il fucile da cechino dai fucile da cechino però dai entra fucile da cechino di merda ma sei proprio uno stronzo ma che cazzo eh non ce la faccio ce la faccio ma non ce la faccio ce la faccio ma non ce la faccio ce la faccio ma non ce la faccio ovviamente non ce la faccio mi sembra ovvio mi sembra più che ovvio eh un bel cazzo di casino ragazzi io non mi aspettavo una una retata del genere sinceramente se eh lo sapevo mi sarei eh organizzato ma essendo in blind ok vediamo se con questa dai prendimi l'arma giusta brutto stronzo dai eh buonanotte ci starma è buona ma forca troia che deve caricare così tanto eh ciao eh come faccio eh ciao adesso non ci riuscirò mai ok vai ricarica intanto sono troppi sono troppi sono troppi ovviamente adesso io ci provo ma ok andiamo a riparare sto cazzo ho capito ho capito oh cazzo vediamo un po' se riesco a fare qualcosa allora questo dovrebbe andare bene con questo dai dammi il cecchino porca vacca vai ho appena disattivato l'ossigeno della base no credo che gli ingegneri invieranno presto la tua stazione di spostamento rapido eh eh dannazione Angelo cosa stai facendo quelli sono i cattivi eh adesso arderò contro tutto quello che ho eh niente c'è niente da fare purtroppo è una merda quel fucile ci mette 30 anni a caricare porca vacca cioè non è possibile non è possibile che ci metta così tanto a caricare porca vacca devo fare qualcosa per il caricamento assolutamente dove cazzo devo andare dai eh ci provo eh non vedi come cazzo è difficile qui vai adesso ricarica ovviamente ci metto 30 anni vai devo cercare di caricare in fretta vai lo so lo so ma devi darmi un secondo perché perché punto se no muoio guarda lì guardate lì ok dov'è Radio Faro è di qua porca vacca ok ecco qui Radio Faro non è anche questa è andata poi è un bel cazzo di casino ragazzi un bel cazzo di casino un bel cazzo sai non ti vedo ok ovviamente è morto quando lui mi ha sparato perché se no sarebbe stato troppo facile e adesso ho altre 3 ore per caricare mi sembra ovvio ok vediamo se qui riesco stazione di spostamento rapido una minaccia di morte ottiene sempre risultati e quindi io cosa devo fare è quasi arrivata proteggi il radio faro ancora io non so come fare ragazzi qui è un casino non li vedo ok ok ce la farò ok si ce la posso fare noi due dobbiamo fare una bella chiacchierata lo spostamento rapido century mamma mia dove è century qua century oddio santo non ce la facevo più mamma mia che tragedia non me l'aspettavo una roba del genere ragazzi ce l'ho fatta non ci credo amen amen mamma mia è stata veramente tosta bene io vi riprendo un attimo e quindi per il momento vi invito a lasciare un like un commento se vi piace la serie e fammi sapere nei commenti cosa ne pensate e per adesso vi do solo ciao ciao ciao